Ciao a tutti, oggi vi parlo da un luogo storico che ormai vive fra la leggenda e la realtà. È il luogo dove Giuseppe Garibaldi si è incontrato con Vittorio Emanuele II. Sono quindi qui a Teano. Nel 1860, il 26 ottobre, quindi proprio in questi giorni, Garibaldi si incontrò con Vittorio Emanuele II e in quell'incontro si spensero anche i sogni repubblicani di alcuni giovani mazziniani e ebbe inizio la storia d'Italia. Fu un giorno memorabile in cui si racconta, e qui è leggenda, che si strinse la mano per oltre un minuto e che Garibaldi, incontrando Vittorio Emanuele II, pronunciò la famosissima frase Saluto il primo re d'Italia. Poi è anche vero che l'altra frase che si attribuisce a Garibaldi in questa circostanza, e cioè il famoso obbedisco, non è di questa circostanza, ma fu scritta da Garibaldi più che pronunciata su un telegramma, ma un po' di anni dopo, durante la terza guerra di indipendenza. Vi saluto tutti da Teano. Ciao Donato.